Sono stato eletto consigliere comunale e dai banchi dell'opposizione continuerò a difendere Taranto e i Tarantini in ossequio a quei tantissimi cittadini 4200 che hanno riposto fiducia nella mia persona. Mi trovo nelle adiacenze dell'arsenale, il tratto finale di Via di Palma e vedete proprio qui da dove sto parlando c'erano dei cassonetti. Erano molto importanti perché la collocazione di questi cassonetti qui era molto importante perché questi palazzi, vedete, sono le palazzine della Marina Militare. Ci sono molti anziani e quindi per loro diventa ora davvero difficoltoso andare a conferire i rifiuti altrove. Prima ce l'avevano qui nelle vicinanze, ora addirittura devono fare un lungo percorso, un lungo tratto a piedi, o verso Via Leonida o ancor peggio tutto in fondo verso Via Crispi, subito dopo il giornalaio per intenderci. Può sembrare una cosa da poco ma non lo è perché la maggior parte di queste persone hanno superato gli 80 anni, una media di 85 anni anche. e quindi per loro diventa impossibile, difficilissimo andare a portare il sacchetto dei rifiuti. Invito Chima Ambiente Amiu, invito Melucci a intervenire. Già ho sollevato questa problematica ma non ho avuto risposte. Ora da consigliere comunale, caro Melucci, caro Mancarelli, pretendo il ripristino dei cassonetti qui perché non è possibile che gli anziani debbano vivere in queste condizioni. Non ce la fanno a camminare, sono persone di oltre 80 anni, non ce la fanno a camminare. Come devono andare a buttare i rifiuti? E allora si vedono costretti ad andare a buttare il sacchetto in questi piccoli cestini, cosa che ovviamente non si può fare. Evitiamo questo e per cortesia mettiamo dei cassonetti qui. Mi rivolgo a Melucci, mi rivolgo a Mancarelli. Immaginate un attimino che al posto di questi anziani vi fosse un vostro genitore anziano che non ce la fa a camminare. Mettetevi nei panni di queste persone e, come dire, rimodulate la collocazione dei cassonetti.